Gli ultimi dati Istat certificano che in Molise l'incidenza della povertà è passata dal 19,3% del 2014 al 21,5% del 2015, un aumento del 2,2% che fotografa per la nostra regione un triste primato a livello nazionale. L'allarme povertà lanciato anche dalla Caritas in basso Molise, dati che, ha detto Michele Iorio e con lui gli altri consiglieri regionali di centrodestra, dovrebbero far riflettere la coalizione al governo del Molise, quella stessa coalizione pronta a celebrarsi in altre occasioni. Non servono le statistiche per descrivere lo stato di tragedia che interessa gran parte della società molisana. L'aumento della povertà, la difficoltà di avere un reddito compatibile con la possibilità di vita in questa regione è un dato evidentissimo che si palpa tutti i giorni, basta girare tra la gente che si raccolgono le giuste lamentele di una politica sbagliata a livello regionale che ha depresso notevolmente l'economia di questa regione. Io credo che non ci sia proprio la consapevolezza, oltretutto, da parte del Presidente della Regione, della sua Giunta, della necessità di operare in qualche modo in maniera diversa dal passato. Si perseguono sempre gli stessi obiettivi, si lanciano messaggi entusiastici, si fanno i selfie con il Ministro Boschi, per esempio quella poteva essere un'occasione per chiedere al Ministro alcuni interventi strutturali per questa regione, sia infrastrutture che un sostegno al reddito, in maniera speciale perché siamo in una situazione straordinaria, altro che festeggiamenti ed entusiasmi. Io credo che il Governo regionale viva un'altra realtà. La gente fa sacrifici e il Governo regionale se la ride. Per il centrodestra è necessario portare a sistema il reddito minimo garantito, approvando una legge articolata di ampia portata che la stessa coalizione di minoranza in Consiglio aveva proposto nel 2014, ma occorre molto altro ancora, detto Iorio, a fronte di un Governo regionale fermo. Oltre che cambiare la politica economica e industriale, rispetto alla quale discuteremo anche nel prossimo Consiglio regionale, c'è un problema anche di strategie, di consapevolezza. Lei pensi che il cosiddetto patto per il Molise di sviluppo che dovrebbe firmare, non si sa quando, il Presidente Renzi, non contiene nessun finanziamento per il sostegno sociale? E mi sembra, rispetto alla Basilicata che impegna 450 milioni di euro per i prossimi anni a favore del sociale, mi sembra che questo Governo abbia fatto un buco enorme di programmazione. Significa che non c'è la consapevolezza di quanto stanno male i molisani.